Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Vai, sigla! Allora, oggi vi farò vedere come accorciare l'url di un sito web tramite bit.ly.com Allora, andiamo nel sito web, andiamo al link del sito che dobbiamo accorciare CTRL-C, lo copiamo, andiamo in basso, qui su past anyurl, lo incolliamo e dopo di che facciamo shorten. Adesso ce l'accorcerà e da tutto questo così lungo passeremo a questi pochi caratteri. Vediamo se funziona. Vediamo un po'. E infatti il link funziona. Questo è proprio un velocissimo tutorial. Spero che vi sia stato utile perché per me è molto utile ad esempio. Infatti lo inizierò a usare penso nei prossimi video. Spero quindi che vi sia stato utile. Ditemi la vostra mettendo un voto, un mi piace o un commento. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!